L'infezione da HPV o papilloma virus è molto diffusa. Addirittura 8 donne su 10 vengono contagiate nel corso della vita. Ma, per quanto comune, questo virus non va sottovalutato e, come ogni nemico, per combatterlo è importante conoscerlo. Ecco 7 cose che forse non sai sul papilloma virus. 1. Il virus HPV si trasmette solo per contatto con le zone genitali. Il contagio non può avvenire tramite oggetti o indumenti. 2. Nella maggior parte dei casi il papilloma virus non porta sintomi. In alcuni casi, però, può causare lesioni benigne o maligne. 3. Esistono oltre 100 tipi di papilloma virus, ma il 16 e il 18 sono responsabili del 70% dei tumori al collo dell'utero. 4. L'infezione da HPV è l'unica causa del tumore al collo dell'utero. Se debellassimo il virus, elimineremo anche la malattia. 5. L'HPV test sta sostituendo il pap test come metodo di diagnosi precoce. I due esami sono simili, ma il primo agisce con maggior anticipo ed è consigliato solo una volta ogni 5 anni. 6. La vaccinazione è raccomandata anche ai maschi. Se colpiti, infatti, rischiano di avere sintomi nella zona dell'ano o della gola, oltre che contagiare le donne con cui hanno rapporti. 7. Mentre è possibile curare i sintomi, non esiste ancora un trattamento per curare l'infezione da HPV. Rapporti protetti e screening periodici aiutano a evitare l'infezione, ma è la vaccinazione il metodo più sicuro per proteggersi.